Inaugurato oggi all'ex pretura presso il parco del Castello Margra, un desiderio che è divenuto realtà dell'amministrazione comunale e del sindaco Alberto Rostagno, ossia la creazione di un polo sociale. Sì, finalmente dopo tanti anni potrà cambiare nome questo luogo da ex pretura che per tanti anni ha avuto un'importanza in Riva Rolo, finalmente dopo un periodo in cui i locali sono stati disabitati per varie vicissitudini, questo luogo diventa veramente un punto di riferimento per la nostra città ma non solo, un punto di riferimento per un intero territorio grazie alla sinergia tra la città di Riva Rolo, l'amministrazione comunale, il CIS38, l'Astro Rino 4, l'associazione Anderivieni e tante associazioni anche di involontariato che hanno voluto portare in questo luogo un centro di aggregazione per la famiglia. Oggi la famiglia, lo sappiamo per vari motivi, motivi sociali, motivi culturali, ha delle problematiche e noi vogliamo che in questo luogo ci siano le risposte alle problematiche delle famiglie. La risposta naturalmente come logistica è eccezionale perché siamo nel cuore della città all'interno del parco del Castello Malgrà, ma molto di più la risposta deve venire, anzi avverrà, attraverso quegli operatori che lavoreranno in questa struttura, che sono operatori di qualità, operatori informati, operatori che lavorano per il CIS38 e per l'Astro Rino 4, operatori anche volontari che avranno la possibilità di accogliere e di dare risposte alle varie problematiche che oggi ci sono in città. Sono problematiche che avranno modo di avere quelle risposte non solo per quanto riguarda le persone e le famiglie, ma anche per quanto riguarda persone che al di fuori della famiglia hanno delle difficoltà. Qui troveranno tutte quelle risposte e qui troveranno le competenze giuste. Noi siamo contenti e orgogliosi di aver creato oggi questa nuova situazione che diventerà, come ho detto prima, un punto di riferimento non solo per la città ma per tutto il CIS38 che oggi, in questi ultimi mesi, si è anche arricchito di nuovi comuni che hanno fatto una scelta importante per dare ancora più forza e più importanza alla nostra struttura sanitaria, al nostro CIS38. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.